benvenuti ragazzi nel mio nuovo video oggi cascate di molina ci siamo formati in questo bar a fracolazione e su la a mettere le macchine oggi mi trovo come nuovo qua su Amorusa e partiamo per la camminata barra escursione ci vediamo durante il percorso adesso ci stiamo avvicinando all'ingresso del parco e l'ingresso costa 7 euro stiamo in torno al parco bene adesso non ci posso ficare qui bene adesso non ci posso ficare qui devo aspettare la figlia paghiamo 7 euro e entriamo nel parco questo qui era solo un assaggio ricordatevi una cosa che in tutta l'area del parco è vietato entrare in acqua anche per il cane quindi anche solo con le zampe l'ha tenuto fuori con il rosso già riuscite a vedere praticamente tutte le cascate poi vedete voi se volete aggiungere la parte del nero è principalmente una camminata panoramica è una bella passeggiata però è un percorso piuttosto rispetto agli altri dipende come siete abituati a camminare grazie 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 Grazie. Grazie. Adesso resti lì, adesso ti lasciamo lì. Che cazzo fa con me? Oh. Dai, manda a foto. E come c'è fa? Vai a foto. E come c'è fa? Vai a foto. E come c'è? 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 No. E come c'è? No. E in. Can Joshua. comunque per darvi qualche notizia sul percorso è tutto dentro questo parco enorme praticamente come ho già detto prima per entrare si paga 7 euro e ci sono tre percorsi che si dividono in base alle proprie capacità e difficoltà c'è il verde che è quello più facile il rosso che è intermedio e il nero che è il rosso un po' modificato la parte modificata dicono che è tutta sotto al sole quindi state le persone decidere se parlano o meno però io abbia scelto di fare il rosso quello medio basta il percorso è tutto un sali scendi sali scendi qui tra l'altro siamo dove eravamo prima dove c'è l'altalena e basta continuo a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.